Catanzaro batte Torino 2-1, era andato in vantaggio il Torino qui in maglia bianca con questa azione promossa da Pecci continuata da Patrizio Sala mentre Menichini cerca di anticipare il giovane Bonesso ma invece batte il proprio portiere Mattolini. Nella ripresa il pareggio da calcio d'angolo di Braglia, colpo di testa di Mozzini che anticipa tutti ed è in pratica un altro autogol per cercare di anticipare il centravanti Michesi. Poi il Catanzaro brillantemente conclude un campionato che l'ha visto conservare con merito e senza problemi la permanenza in Serie A. Nicolini ha lanciato bene Orazzi, entra bene in area di rigore Orazzi e batte il portiere Terraneo. E' il gol della vittoria del Catanzaro per due reti a uno sul Torino per la festosa permanenza in A.